la stessa la stessa la stessa mantendolo si è già lì la stessa la stessa la stessa la stessa ok perfetto sta arrivando dove te lo tengo si va verra il stessa finirà il terreno ti vedi Senta! Tiro la misetta, ok. Sta scendendo Antonio. No, non erano i vici, due. Ma non so. Assecondare i miei movimenti. Ma sai che è sulla strada? Ma ho detto cosa che stava scendendo, che scendeva quindi, suppongo. Ma fino a? Stiamo all'inizio. Sembra carino ecco. Lascia la miare. Ciao. Come in, vissi. 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 non lo so non lo so ma sono la terra regata ma te la bella raccomando tu non te lo faccio non te lo faccio in pressione dai dai ma come te video camere man si vedete il videocamera? si si, spieghi la carta ma questo è sempre Gianluca no? Gianluca ha tarrato il video navetta è operativo stai tenendo il radio Daniel Manni a corretti a corretti bucate bucate sui 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 I che rendi sa di doppia un figuring Andiamo a girare Eppie Sì, 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 sì Grazie a tutti. 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 Deo? Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.